Amici di Vedi in Vino, ciao e bentrovati! Siamo qui con l'amico Filippo Giorgi e oggi presentiamo un meraviglioso Suave, l'azienda Tamellini, molto prestigiosa nella zona venta del Suave, hanno anche un bellissimo ambitorismo tra l'altro, però vediamo il vino! Direi che è un bel 2012 con 12 gradi e assaggiamolo! Un vino ce l'aspettiamo di classe, vediamo se ci rispetta, vediamo un po' il colore che ha, un colore giallo dorato, un bel colore, il bicchiere gira molto bene rispetto a tutti solo i 12 gradi, direi nettamente! Il colore è molto molto interessante, sentiamo un po' il profumo, anche abbastanza consistente! Beh, i profumi direi che saltano al naso diverse cose, probabilmente la prima è minerale, quindi sentori minerali, poi un po' netta frutta, molto matura, molto gialla, rispetto di Suave, subitamente non regala grandissime emozioni! Invece Tamellini riesce a tirare fuori dei profumi quasi aromatici da quel profumo, frutta potrebbe essere un po' di anam, un po' di banana e poi arriva i fiori, qualche fiore giallo, tipo della caccia o anche qualcosa di particolare, visto che siamo in tema di marzo! Una mimosa gentile, un po' dolcina! Una mimosa, un po' dolcina! Bellissima questa, grande fiore! Ottimo! Sicuramente secco, giustamente caldo perché è 12 gradi, vino esile, di classe, di stile! Poi lascia una bocca, la mineralità ritorna, io la sento tanto, non disgusta questa mineralità, infatti ti asciuga bene il palato e ti invoglia bene ancora qualche calcio! Una bella persistenza! Ce l'abbiamo ancora in bocca, quindi una bella, una bella persistenza! Oh, direi che... Ti aspettavamo un vino di classe! Eh, ce l'abbiamo! Infatti, ho un'idea per l'abbinamento! Beh, intanto serviamolo a 10-12 gradi, quindi fresco! Ma non troppo! Esatto! Con l'abbinamento vedremo cosa ci dice il nostro caro amico Vale Mazzola dal suo blog con gli abbinamenti e vedremo invece di proporvi, io ci direi del sushi! Mmm! Sto osino! Fatevi un po' di sushi! Magari, visto che questo dicevi che è in classe un po' elegante... Io non esagererei col wasabi! Ok! Perché il wasabi marchia molto più! Sushi senza wasabi! Senza wasabi! Prima facciamo così! E un bel calice di soave! E un bel calice di soave! E un bel calice di soave! E poi amici di Made in Vino! Andate su Made in Vino.com a sole 19.90! Diventate somigliere insieme a voi! Portandovi a casa due bottiglie di vino! Grazie! Ciao! Ciao!